... Oh raga, ci siamo? Prova, prova, prova Sì, sì, si dovrebbe sentire Ottimo, ottimo Buonasera, 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 buonasera giocatori E benvenuti ad una nuova puntata su A Plague Tale Ragazzi siamo alla puntata numero 3 con Plague Tale Innocence Ragazzi, sta succedendo praticamente il panico Siamo stati prima imprigionati Ci hanno catturato per colpa di due ladri, di due ladruncoli Che poi ci hanno aiutato anche a fuggire Avevano preso Hugo, avevano preso Lucas Ma in ogni caso siamo riusciti a raggiungere la Roccaforte Dove in qualche modo, non so per quale motivo, è collegata la famiglia dei rune Dei rune, che dovrebbero essere appunto Amicia e Hugo E abbiamo sgombrato tutti quanti, insomma, abbiamo levato tutti i topolini che c'erano Che infestavano questa Roccaforte Adesso dovrebbe essere tutta quanta nostra Ciao Claudio, ciao bro Stavolta il suono di cuoricini l'ho visto Detto questo ragazzi vi ricordo di lasciare un bel like Se non seguite la pagina di farlo, condividela con tutti quanti i vostri amici E let's play E enjoy the game Allora Non mi ricordo nemmeno a che capitolo siamo Giuro, non ne ho la più pari idea Ah ok, siamo all'ottavo Che si chiama casa nostra E questa casa che abbiamo sgombrato da tutti quanti i topolini Vediamo un pochettino come siamo combinati Vi dico la verità Non so quanti capitoli sono Vi dico la verità Non lo so Non ne ho la più pari idea Però In ogni caso Per il momento Dovremmo essere più o meno A metà Cioè Siamo arrivati a otto capitoli Ok Oh Vediamo un pochettino che cosa succede Purtroppo raga Tutto quanto il gioco è fatto senza armi È fatto solo con lei Con la sua fiondina E va bene così Certo C'è comunque un rapporto Che è di fratellanza Tra i personaggi Che è molto carino Aspetta che mi sono missato qualcosa Esatto Prendiamolo Va Miglioriamo le corde Oh Ciao bro Ciao bro Come stai Buonasera Zooken Minchia quanto io manca a giocare con Final Fantasy Ti dico la verità L'altro giorno stavo ascoltando la colonna sonora di Final Fantasy X E mi era venuta quella scimmia Tipo Ma io di questo gioco mi ci faccio una run ogni estate E l'estate è iniziata ieri Perché non iniziare? Ma sì Quasi quasi Una bella run su Final Fantasy X Giusto per ritornare alle origini Dove Dove porto il piccolo Tidus A schivare fulmini E a cavalcare Pennuti giganti Imbizzarriti Eh sì 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 Abbiamo molto lavoro da fare Io sto cercando collezionabili senza un senso Così Non è venuto Quindi adesso seguiamo Hugo e vediamo dove dobbiamo andare Effettivamente c'è puzza di cutscene No 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 guarda per iniziare la run Ne ho 3000 di motivi Per non iniziarla effettivamente non so quali motivi potrebbero esserci Cioè per me è considerato che Final Fantasy X è uno dei miei videogiochi preferiti Cioè è impossibile che non c'è una buona ragione per giocarlo Cioè cazzo Di che stiamo parlando Cioè io ci metto il cuore in quel gioco Linearità proprio buttata come se erano gli stessi un domani per il momento È una specie di pozione per Hugo Per la sua malattia La lacrima d'Angelo Allora il motivo per iniziare sono le tre ore di sfracassamento di palle senza fiocco HP Ethereum per battere d'Arcani Certo questo è un punto valido Ma io già la mia challenge senza Yojimbo Cioè la mia run senza Yojimbo l'ho fatta Non ho detto che devo farla questa qua pure senza Yojimbo Magari esco Yojimbo e mi faccio tutti quanti d'Archeoni No non lo so ti dico la verità Ora come ora Come cose che mi piacerebbe fare Passeggiare per la pianella Bonaccia Così Passeggiare lì con il mio ciocobino Le tre ore di un uomo distrutto Porca troia Ancora c'è i traumi c'è per quella run Ma che run che mi è uscita fuori Cioè quella run pochi cazzi Senza Yojimbo Battere The Richter senza HP Eperion e Fiocco Cioè Allora siamo usciti Urliamo nel frattempo Mi pare giusto Siamo nel momento Game of Thrones Ricordiamoci comunque dei momenti memorabili di quella run tipo queste Stai andando a me stè? Stai andando a me stè? Stai andando a me stè? Amicia Guarda Guarda Io vi dico la verità credo È arrivato a un certo punto di essermele pure baciate le mani da solo E questa cosa credo di averla fatta soltanto due volte in tutte quante le mie live Soltanto due volte Una era con Resident Evil 2 Come se fosse un certo punto di essermi Come se fosse un certo punto di essermi Amicia Porremmo veniva Sì Hugo Cosa hai trovato? Hugo dove sei andato in cinque minuti? Ah qua è Ragazzi il mistero si infittisce Ragazzi il mistero si infittisce Tu sei certo Alchemist Cosa hai visto il truco? Il truco? Vabbè 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 Piccolo marmocchio ti seguo Vabbè Onde ti andai? Hai trovato nuovi amici Sì Cosa hai visto? No ma non è colpa tua Però sta peggiorando Lo vedete tutto quanto sul collo Come ce l'è bene Certo è preoccupante come cose Eh sì La macula sta diffondendo nel suo sangue Raga Chissà se ce la faremo assalbarlo Ma quanto tempo dobbiamo avere? Molto Hugo è nemmeno il primo threshold Ma ma e la mia madre stanno cercando il processo Ma come? Cosa stavano? Cosa stavano? Cosa stavano? Stavano lavorando su una complessa elitura che permetteva il tempo di preparare E tu sai come fare? Non ho il loro conosco Ma il loro lavoro era inspiraato da un libro Il sanguinis itinera Quindi potremmo Con il libro Non riesco a farlo Il sanguinis itinera è pericoloso È scegliato insieme con altri in un basso universale Solo arrivare sarebbe impossibile Suicidale Normalmente sì Ma se facciamo Che facciamo Lasciamo creare We might have a chance I know the place It's in town Not far from where They keep my brother If you're ready to take that risk I can help you get in Thank you Right I'll get my belongings together Meet me inside When you want to leave In that case You'll need some equipment I'll get it ready Hugo I'm really sorry I need to leave Don't worry I'll stay with Lucas Good I'll be back soon Ok Qua forse siamo davanti È un cambiamento Di gameplay Perché se andiamo Soltanto Io e Emily Sicuramente Cambierà qualcosa Sarà perché le rose Sblocchiamo il trofeo Casa nostra C'era questo qua Ragazzi L'ottavo capitolo Era così Una cutscene E basta Cioè Non abbiamo giocato Ma non abbiamo giocato proprio Siamo al capitolo 9 All'ombra della fortificazione Oh raga Che vi devo dire What's that crowd On the bridge It's the townsfolk They're being evacuated Let me guess The bite's here Exactly And where there's the bite You'll also find The inquisition Aren't you the smart one No Ah lo conosceva Wow Oh Bella storia Comunque Tutte e due Secondo me Non lo so Le due ragazze Secondo me Mi ispirano più fiducia Dai andiamo Ovviamente Sono sempre guardie Come on Come on Come on Come on Come on Come on We have to get the last ones out Don't worry We're almost done The suit is out We're going to be able to speed up Apparature Those bastards What are they doing? Collezionabili Oh Bella lì Allora Collezionabili Vuol dire Risorse Ok Proseguiamo Ah Quella lì è l'università Come cazzo c'è il rio? Ma l'edizione è lontanissima L'ho trovata però È un po' fuori mano Mamma mia No cazzo No cazzo Perfetto Mi è andata di culo Certo sapessi dove andare Chi fu? Ok Qua sono i topolini E non posso passare Maledizione Cazzo che palle No non posso Così non posso farlo Devo Devo usare più testa Devo capire come passare Ho bisogno di lui Ho bisogno della sua lanterna Se no non posso passare Allora No No Posso passare C'è il bastone Perfetto Posso passare Quindi Vediamo se lo riesco a fare fuori Oh no Forse non serve Forse non serve Ok Bastone Cazzo sta tornando Che rottura di coglioni però Devo aspettare Che se ne va Un'altra volta Fattene Ok Veloce 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 c'è point, grandissimo tu dici al posto di farmi una run sul 10 di farmi una run sul 13 scusami ma non credo di aver ti capito o forse ho capito ma sono lì che faccio finta di non capire allora come faccio a passare ah ok ora credo di aver capito come fare eh sì però vediamo vai vai gira ti cazzo no non ce la faccio lo stesso oh ci sono riuscito miracolosamente ci sono riuscito no bro ma comunque sul 13 no non penso che non mi andrebbe proprio di farmi una run in questo momento sul 13 il 13 non va giocato l'estate non lo so perché cazzo quante volte no la discussione era nata sul fatto che comunque io su per quanto riguarda fan fantasy 10 almeno una run d'estate così ogni anno me la faccio senza un particolare motivo perché è uno dei miei giochi preferiti e me la faccio sempre d'estate non so perché per me è un gioco estivo forse perché quando l'ho comprato day one era proprio vicino all'estate e poi me lo sono portato in vacanza non mi ricordo dove ma perché sto andando di qua con l'impressione che sto commettendo non so forse no forse no 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 prenditi quello cazzo vabbè perché non mi ha preso la lanterna perché non mi ha preso la lanterna cazzo la lanterna doveva prendere non mi fare sprecare risorse maledizione la sanai potrà escape certo un altro di quelli tipo invernalissimi è Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 tipo gioco parecchio invernale non so perché non so perché troppe risorse facciamo troppe stronzate di qua non posso accendere niente no no ma ecco l'è il game over merissimo il 10 aspetto la torana per rigiocarci anch'io eh sì vabbè raga ma il 10 alla metà delle mezza stagioni ma no ma guarda allora ti dico una cosa cioè oggettivamente possiamo parlare quanto vogliamo ma se dobbiamo metterci a parlare del 10 col 13 non c'è proprio paragone cioè io vi dico la verità una run su Final Fantasy 10 me la farei anche subito perché perché comunque oltre a essere uno dei miei giochi preferiti ha anche le qualità per esserlo ma non è un gioco tanto per certo la run che siamo fatti l'anno scorso è stata qualcosa di spaventosamente figo è stata una run totale senza io Jimbo abbiamo abbiamo fatto il platino praticamente anche se già ovviamente l'avevo platinato nemmeno io so dove mi trovo 7 8 10 fanno volare via anche il 9 io ho vabbè lo sapete raga ho giocato il 9 e il 12 live oh tanto male non erano eh cioè vi dico la verità tra l'altro è stata una bella sorpresa il il 12 finchia che liscio minchia fammi ci mangiatevelo minchia come se ne scappa perchè do c'è niente ah no c'è qualcosa il 9 è effettivamente sensazionale il 9 è rigiocatolo di recente porca puttana che bella sorpresa cioè che bella sorpresa oddio me lo ricordavo fosse bello ma bello davvero abbiamo preso il platino abbiamo preso il platino live se non sbaglio ah no il 9 ragazzi platino non l'ho preso il 9 volendo lo posso fare platino una bella run così faccio il platino ma quasi quasi è che volevo qualcosa un po' di più horror cioè non so perchè ma volevo un po' di horror certo sarebbe carino anche sapere dove andare no 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 oh ma scusa ma questo chiave non ne aveva per aprire quella porta ah no forse alla fine no c'era ah un'altra stanza questa non l'avevo vista l'avevo mancata wow quanti impiccati no 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 i salti ce l'ho i salti ce l'ho i mille salti li ho presi tu non ti sei visto quando ho mandato il video ai ragazzi nel gruppo telegram che avevo preso il trofeo ci ho messo 24 ore no a me 24 ore per prendere quel cazzo di trofeo tra l'altro ci potrebbe essere pure no ma perchè esattamente come per i salti non l'ho fatta live esattamente come per i salti non l'ho fatta live e ci sono le persone che ovviamente subito mi hanno guagato il cazzo però a me non me ne frega niente cioè non è che devo dare conto a qualcuno cioè io ho fatto l'hygloss a faccio hobo proprio per fare capire che le mani ce l'ho ma poi i mille salti ti dico la verità come sfida mi è proprio piaciuta proprio bella anche perchè per me che ho la passione di ridere game cioè per me i giochi musicali solo che qua mancava la musica però tendenzialmente è un ridere game perchè devi essere un metronomo un batterista lo farebbe davvero senza problemi quel platino cioè quel trofeo invece quello di raggiungere la fine in 12 ore cioè ragazzi speedrunnare Final Fantasy 9 è secondo me da pena capitale proprio ti devono ammazzare per fare una cosa del genere una minchia devo passare da qua è vero posso fare cadere gli impiccati troppo lontani forse questo è più vicino mamma mia mi piace questa storia eh cazzo quanto mi piace sono quelle ambientazioni che mi fanno sentire a casa per me che amo gli horror per le persone normali effettivamente no cazzo cazzo ok sono passato grande qualcosa mi dice che devo fare in fretta ricordate ricordate questo spazio io posso venire ok wow il battone si chiama il batterista i fattolini i fattolini eh sì eh ma levati al cazzo esatto è solo però che mi mancano devo capire come passare ah vabbè di qua volendo ce la faccio via 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 oh raga pazzesco siamo passati comunque è bello molto carino molto carino proprio queste prove così ci stanno the university the university the university the university the university i really don't want to go through the locked only many was here come there has to be the inquisition has to put it it looks like the difference ah clever the grand inquisitor doesn't do things by halves ok indirizzando la luce posso passare eh questo qua per esempio ragazzi non ha aggiunto in più che bello passare dai buchi esatto come on amicia come on amicia come on amicia come on amicia Fai qualcosa, vieni Ok, l'abbiamo fatto ammazzare Soltanto spostando la luce, pazzesco, raga, pazzesco Questa è un'aggiunta nuova Una finestra, perfetto Una finestra, perfetto Magister 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 Ah, vediamo Oro, Vincenzo e birra Perfetto Eh, caro mio Prestigibili di distrazione Come il mago Silvan Hai capito Pure io voglio questo potere Odoris Dopo il Deodorantris c'è l'Odoris Deodorantris Al tonallo d'Odoris Esatto Esatto Eh sì, effettivamente. L'estate è pregna di Odoris, esatto. Eh sì, ma... Niente da fare. Comunque pure io voglio l'Odoris. Voglio un po' di Odoris. Ho i pomodoris. Una seconda. C'è sta roba? Odoris, ora lo posso creare. Posso creare l'Odoris. Ce l'abbiamo ragazzi, creiamo l'Odoris subito. Utilizziamolo. Guarda con l'Odoris come se ne vanno via a fanculo. Bellissimo. Allora, piccola riflessione personale per questo momento. Alla fine del gioco, se mi fanno fare un NGPU, questo gioco te lo finisci in 20 minuti. Perché hai tutto quello che ti serve per superare gli enigmi, anche quelli la più difficili. Ma veramente tutti quanti. Zalatus di Pomodoris e Cipuddas. Esatto. Non ne voglio. Cipuddas danzalatas. Come dicono... come dicevano i latini. The ground has collapsed. I need to find something to whisk myself up. Ah, c'è il carretto. Aspettate un attimo, come passo però? No, di là non passo. Devo capire. Tipo così? Ai latini piaceva il finocchius. Non so se funzionerà. Ci provo. E cazzo, dove è andato a finire? Odorys non può mantenere lì per molto tempo. Ne ho bisogno di bloccarli una volta e per sempre. Allora, per favore. No, è niente. No, 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 no. Sto sbagliando. Sto sbagliando qualcosa. Sto sbagliando maledettamente qualcosa. Devo capire. Devo capire questo enigma. Devo avere la chiave di questo enigma. No, 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 no. Allora, innanzitutto devo capire per quale motivo mi serve questo carretto. perché da qua non riesco a salire. Ok, questo già è un indizio importante. Quindi vuol dire il carretto lo devo portare qua. Quindi il carretto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Invece sì, lo sappiamo. Vediamo cosa c'è lì. Niente, risorse. Oh, bella storia, raga. Bella storia davvero. Il problema è arrivare a quel cazzo di cosa. Come ci arriva il carretto? Questo è un bel enigma. Perché l'Odoris, da quanto ho capito, è temporaneo. L'Odoris non lo mantiene in là per molto. E devo bloccarli una volta e per sempre. E infatti. Via, 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 via. Devo capire come bloccarli una volta per tutti. Come si bloccano una volta per tutti. Allora. Non posso. Bloccarli una volta per tutti. Forse ho capito come. Allora, giro sto coso di qua. Poi. Butto l'Odoris lì. L'Odoris non lo mantiene in là per sempre. E devo bloccarle una volta per sempre. Ok. Così li ho bloccati. Tecnicamente dovrei riuscire a prendere. E sì, perché qua non ce ne stanno più. E infatti non ce ne sono. Così, ragazzi, ce la dovrei... Cioè, penso di avercela fatta. Ok. Adesso scivola. Perfetto. Buono. Oh no! Buono. Questo è stato molto discreto. Ora, adesso ci sono un po' più. Ok, via. Dai, alla fine... La si fa. Alla fine... prendiamo tutte le risorse e via oh lord, sono morti, hanno maturato loro eh sì, hanno fatto un bagno di sangue i rati... hanno maturato i rati non posso, mi scusate non posso crederlo, abbiamo usato i rati contro i morti non sbaglio è questo, bro dovrebbe essere questo ah, posso colpirti con l'odoris, bene si chiama karma, amico mio si chiama karma non perché è troppo tardi per te chiamate un person ma non preoccuparti tutti gli altri saranno pronto non 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 ma non 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 Immacuazione. Passing it on from one sick bloke to the next, right up to the Grand Inquisitor. There will be no one left. Shut the fuck up! Stop trying! I don't want to hear another peep out of you. Nothing! Ambe? Pensavo si chiamasse Carlo. Deve esserci qualcosa di utile all'interno. Eh si raga, qua secondo me... Boh, vediamo. Bello, bello davvero. Non li porto fuori nemmeno con la cosa, nemmeno con lo Doris. Forse qua serviva direttamente la bomba quella per farla scoppiare. Passing it on from one sick bloke to the next, vediamo questa raga, sono curioso. Provo a fare il più in fretta possibile. una delle card alchemist. Deve essere qualcosa di utile. Wow! Eh si, collezionabili, tanta roba. Oh, niente. qui. Comunque si, questo qua è il gioco degli alchemisti. Perché senza muovere un dito, alla fine, riesce a fare magia, riesce a fare spettacolo. a fare magia, a fare magia. Perchè i topi non se lo mangiano? Perchè i topi non se lo mangiano. Boh? Non lo so. 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 Come cazzo devo passare? Non lo so. 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 no 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 va bene sono troppo veloci allora sicuramente comunque come prima cosa devo fare cadere la gabbia con i ratti questa è la cosa principale sicuro no not that anything but that adesso devo capire come spingerli verso il centro questi qua no perché non li mangiano mangiano me non capisco effettivamente loro c'hanno l'armatura è più difficile sono più croccanti ok e questo è fatto devo capire come passare all'altro lato tutto qua sta a capire come passare adesso all'altro lato no 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 ah devo soltanto salire quindi forse posso anche cavarmela bene faccio così che cazzo sono bloccato cazzo sono bloccato no non ce la posso fare eh infatti non ce la potevo fare troppi cavalieri qua sopra ci sono devo capire devo capire come arrivare qua su comunque ci sono e questa qua la parte x prima di riva entrare dentro l'università è sempre difficile entrare all'università non 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 I'll be right back. Keep your eyes open. Come on. Ok. Oh, fino a tutto giusto. Questa parte l'abbiamo capita che è così. E' questo qui il problema. Cosa succede a te? Alguien va a pagare per me. Cosa stanno facendo qui? Cazzo, me l'hanno preso. Vi dovrai vedere cosa facciamo per introdurermi qui. Cosa stanno facendo qui? Questi alchimisti. Sì. Sono un po' hoity-hoity, ma almeno sappiano come leggere. Questo non dà loro il giro di attaccare come assoli. Ok. Questi qua se ne vanno via. Il problema sono questi qua. No. 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 Non c'è materiale. non c'è materiale. Come faccio a creare un... E' complicato. Forse no. Cazzo Peccato Peccato proprio Ce la stavo facendo Ce la stavo facendo Ok Questi si lavorano dai coisitori Non ci rende il giro di actare come assoli In ogni modo Come se ti senti i carici Come se non è il giro 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 I was told to grant inquisitori Ehm But now And too many heretics That turned my back on you Eh It's all that noise Dai dai cazzo Oh quello non si sposta cazzo Niente quello non si sposta Che cosa è il giro di actare come si sposta cazzo Allora Devo capire come si entra in questo posto Sì Cosa stanno facendo qui? Ah infatti qua era Ok E sblocchiamo all'ombra le fortificazioni come trofeo Capitolo 10 La via delle rose Sblocchiamo all'ombra le fortificazioni come trofeo Sblocchiamo all'ombra le fortificazioni come trofeo Sblocchiamo E' è spossa Sono una Sblocchiamo Oh Pazzesco Ok, la vede le rose, giusto Quanti giorni siamo qui? Ho perduto il conto Non posso capire la differenza tra giorno e noto Prendete qui Prendete qui Vittorio è finito Vittorio è stato portato a Young Rai per aprire la finestra Dari giorni siamo qui E il grande inquisitor stesso viene per aiutare Sì, sarà un evento No, cazzo Devo capire come farà salire Ah, beh, ma questo qua lo posso fare fuori, che senza casco Ah E quindi basta che sposto Eh sì, a sto punto basta che sposto il carretto Sopura da Ok 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 Ancora ok Perfetto So Tu cosa dovresti preparare ai suoi Ok, questi non li posso fare fuori Perché questi qua hanno l'elmo, cazzo Vediamo Non c'è nulla, ora continuiamo Giusto, giusto qua Certo, questo qua effettivamente lo posso fare fuori Exatto Oh, cazzo Allora, la strada è quella Addormentare i corazzati E colpire in testa Quelli là, senza elmo Quindi, uno Perfetto Oramai la tecnica ce l'abbiamo No rats Strange At least those fucking rats There are the roses I'm on the right track I'm telling you Next time he talks to me like that I'll stop one of his bloody books in his cub With a red cover It's his favorite scent The book Another brilliant idea There's something shady about those guys Go on, get out of there Go on, go What are they doing there? Yeah, let's not talk about it Ok, sono i briobi Quindi Let's not talk about it E cazzo però Questi qua adesso non si raccorgono Che devono venire Perfetto Siamo tutti Ecco, sentite? Non mi sono qui. Non, non, non non! C'è un'esercizionale. O qu' tu? Non, non, non! Quindi siamo scocciati, non? Sì, mi sono qui? Non c'è un'esercizio? È un'esercizio. È un'esercizio. Perchè non ce lo mangiare? Perchè non ce lo mangiare in luoghi? Non sa come venire, è rimasto bloccato anche lui. Oh, il casco non gli si toglie. Come venire? Hai detto, la prossima volta che parlano con me, prenderò uno di loro morte nel suo cuore. Ah, c'è! Ho capito come fare Penso di avere la chiave Allora Il primo Lo faccio uscire Beh Uscite completamente Ehi ciao sono qua Oh cazzo No se non lo nevo mi fa fuori cazzo No 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 Ho sbagliato Ah sbagliato ho sbagliato Ho sbagliato proprio Però si la tecnica è questa Quello Doris ce la posso fare Allora Allora Giro il primo Ciao sono qui Perfetto Perfetto Extraordinario Ce l'abbiamo fatta Allora 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 Adaisi, sei anche da casa, non? Travi me l'acqua. Stiamo facendo questo per Hugo. Questa... Questa... Questa finirà a coprire tutto? Oh ragazzi, forse ci siamo. Che minchia! Andiamo, blacksmith! Questo lavoro è aspettato per te. Siamo veramente scrimpendo il barone se Vitali stupisce per trovare un peggio come questo. Un giocatore? Oh, ehm... Che cos'è la terra che i rati fanno così? Cosa? Immagina la forza che hai bisogno per entrare quella veglianza. Posso immaginare cosa farà con il tuo braccio? Il giocatore non ha mai usato più. L'hanno bloccato, non lo vedete? Siamo esattamente cosa stanno facendo, piccoli bambini. Pensavo che abbia scoperto qualcuno. Siamo in giro! Perchè? Non ci vanno? C'è qualcuno che attaccavano a noi! Siamo in giro! Dovevo capire! E te ne vuoi! E tu non ci hai saputo per questo! Ah, ora ho capito. Ora ho capito. Ok, ora ho capito, ho capito. come on earth did the rats do that imagine the force you need to get through that thickness, I can imagine what it will do to your arm, the hole's no use anymore, they've blocked it up can't you see, yes let's go see guard, insurers no, it must be faster perfect nothing here, everyone turn down alright you won't get away from me oh no, may the lord be my witness it came from over here right, stop haven't seen or heard anything for ages perfect so perfect so 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 Ciao Ciao This should make things a little easier Ok Cos'è una trascursione? C'è alla fine un repazzo che è malato C'è una trascursione? C'è una trascursione? C'è una trascursione? C'è una trascursione? Episcience C'è una trascursione? C'è una trascursione? Vabbè questo qua è un potenziale alleato comunque C'è una trascursione? C'è una trascursione? C'è una trascursione? C'è una trascursione? Piao Che palle Lo potevo colpire Peccato Ho missato il secondo tiro Forse li posso far fuori direttamente da qui Devo vedere Ovviamente i bruti non li posso colpire Manco per il cazzo Sono troppo bardati Perfetto I primi due Fatti fuori Roderick Looks like we both have problems Ovviamente sta posto avanzato Qua è ancora vincere in guai Qua è ancora vincere in guai? Qua è ancora vincere in guai? Qua è ancora vincere in guai? Come si è ancora vincere in guai? Qua è ancora vincere in guai? Qua è ancora vincere in guai? Cazzo qua è ancora vincere in guai? Qua è ancora vincere in guai? Qua è ancora vincere in guai? Niente. Salve il guerriero, come cazzo lo salvo il guerriero? Mi ricordo come aprire questa porta. Non prendi molto tempo. Non so chi sei, ma grazie. Ne devi lasciare, i altri guerriero devono tenere. Qual è quella porta? Un'especiale ordine. Un'especiale. Un'especiale. E sai come aprire? Perché questo sarebbe una reale aiutare. No. No, cazzo. Ho sbagliato a selezionare l'arma veloce. Dai, però la si fa, la si fa. Ho sbagliato. Ho bisogno di fare questo per due giorni. Non so chi sei, ma grazie. Nei dobbiamo andare. L'altro guerriero devono tenere. Qual è quella porta? Un'especiale ordine. Un'especiale ordine. Un'especiale ordine. Un'especiale ordine. Voglio aprire? Perché questo sarebbe una reale aiutare. Ehi! Chiudere! Chiudere! Ciuderebbe aiutare molto. Ci prenderà un po' di tempo. Continuiamo. Ci prenderò lì. Oh, ma cazzo. Non è becco uno. Non è becco uno proprio, raga. Che gameplay di merda. Dai, dai. Ehi, alma. Ci dovrebbe essere una forma. C'è questo? Che cosa facciamo? Nel genere voglio fare questo per due giorni! Non so chi sei, ma grazie. Ne vogliamo uscire. I altri guerriero devono ascoltare questo. Qual è questa porta? Un'especiale ordine. Un'especiale ordine. Un'especiale ordine di padre. E sai come lo aprire? Perché sarebbe una vera davanti. mi sono giusto mi sono giusto mi sono giusto si prenderà un po' tempo mi sono frio oh lo perezco non ho voglio muo ma si arriva ancora e sembra che un foglio quasi lì No Grande Bella Raffa È vero forse li posso bruciare Forse li posso bruciare ragione Per salvare il mio piccolo abbrato, porcia Non so dove è La qu1 cosa da vero è che ha torturato il mio papà per la morte E ora lo grave Li ha bruciato i miei bambini Allora, magari da qui Vieni qua, guarda qua da qui Ci devo guardarlo C'è molti di qua qui Possibilmente mi fa pure una spada Oh, un enigma! E' il genio, del male, tienila! Ah no, vero, forse devo essere io! Ecco, vai! All right? Perfetto, cio! You said you'd act as a counterbalance! I did, it gave way! Right, we'll have to be very careful! Affect! Oh! Oh! Let's leave that where it is! By the way, my name's Amicia! And you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia! Who hired you, to do the door? Monks, of the sort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was just the apprentice. Monks, of the sort. Watching over the sanguine setenera. I have to understand now how to get to that side. I have to understand how to get to that side. All right, there are three other lines. Let's see. I have to know. Let's see. Let's see. Okay. Ok, è un po' inutile, però. È troppo quieto. Onde sono i soldati? Onde sono i soldati? Non. Ah, ok. È ora? Roderick! Dovete andare, Amicia! Ora ho capito cosa devo fare. Ah, vieni, muovete! Ehi, non ti incontrivi. Vuoi che io? No, mio frate... Mi dico questo. Per tutte le volte... Non ero lì per lui. Sì? Hai una difficoltà di portare il libro con un armamento bruciato. Dai, cazzo! Minchia, ora prima che arrivo lì passa mezz'ora. Sono qua. Ma se... Perfetto. Non mi sapevo. beh, va bene. Ma... No. Ma se... Ma se... Vado, e dovrei riuscire a passare. Roderick, lascia, e vai tolto. Ora! Ora! Oh, ciao Alessandro, ciao bello! Ora! E scusami, però... Ah, ok, vabbè, passavo comunque, ottimo. Oh, raga! Fatto! Prendiamo il sacro libro, e ce l'abbiamo fatta. Cazzino ovviamente. Che cazzo l'ho sterminato la mia famiglia? No, non abbiamo la possibilità. Prendiamo la mia famiglia. 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 Ottimo, minchia ma è fortissimo E' fortissimo proprio C'è questo è un personaggio figo Roderick Questo potrebbe aiutare Non mi piace sbagliare e fare niente come questo C'è qualcuno con il cuore E' bene E' solo un po' di tempo Quando sei pronto La guardia Non hai bisogno di riuscire a due Grandi Che due campioni siamo Che team raga, che team Altro che il piccolo Yugo Comunque questo capitolo 10 è pazzesco eh Finora è il mio preferito I cannessoi Le Stinguis Le Stinguis Dammi le Stinguis Ci abbiamo le Stinguis raga Ci farebbe un po' di ghiaccio Però Meglio riattivare le fiamme Prima che ci fanno fuori E' un po' di ghiaccio All the books are going to burn It's not your fault Think about your book Yes We have to get out of here I have to find Hugo I reckon those kids started to fire So they could skip away quietly I'm gonna be sorry when I catch them Ma funziona pure con la torcia? Eh no forse no Con la torcia no E' complicata adesso qua E come la colpisco? E non me la fa colp... Ah no perché ho selezionato la cosa sbagliata Ok Via 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 So they're straight for the fire It's the only way Shit! You're on fire! You're on fire! Huh? No! No! Is you alright? Is there anyone still inside? Oh Yeah I thought I'd had it It's like hell in there We're supposed to have reinforcements What the hell are they doing? Two guards We need to get one of them out of the way Non chavio What was that noise? Can you take care of it? Cover me Ok Good job I thought he beat the foot of the tent Perfetto. Siamo una spada fortissima. E ora? È già... Cosa? 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 Oh, lorale! Cosa? Cosa? Siamo fuori all'università Pazzesco, Rai E infatti, la via delle rose è sbloccato, il mio capitolo preferito, ragazzi, un capitolo sensazionale Undici, vivo Non so quanti capitoli sono, però già siamo all'undicesimo Guardate, è lei Amicia Amicia È... è la storia di un piccolo ragazzo che sarà molto migliore ora Sì, sto stavolendo Qualcuno? Io? Vieni e eat, allora Credo che lo serviamo Vieni anche Vieni Bella storia, raga Bella storia, veramente Tre settimane dopo, addirittura Tre settimane dopo Dicembre 1348 No, no, no Bloody hell That's not good Hey, are you alright? It's nothing Tell me This door Have you ever opened it before? It's stuck It's the only place in the chateau we haven't been yet Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo è facile Let's go take a look This at least I know How to do Con le buone, si tenea tutto There you go Well, that was... efficient And almost painless Come on, let's go Wow Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time There's something in the air Yes, just No, the stones It's like interrupting a conversation What? This is the first time I've felt it here Hmm That looks dangerous Let's avoid it for now Another door Shall we continue? Sure Of course Let's see Where this Leads us Oh The court chart It's a shortcut What is the end? Oh 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 Hmm This should make things a little easier Oh That looks a lot better Perfetto Cosa devo fare nel portino? Amicia, vieni e vieni questo, ti piace. Sto arrivando! E' un fresco. E' un fresco. Ah, tipo una chiave, una serratura. E' un fresco. Amicia, vieni rapidamente, è Hugo! Oh no, sono venuto! Vieni? Mi? Eh, 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 ti chiederò. Vieni, vieni! Sono qui, Lucas! Rapidamente, Hugo, por favor. Che sta succedendo? E' diventato più peggio e più peggio. E deve ritornare all'inizio? Amicia, Lucas! Cioè, dobbiamo ritornare all'inizio, dove inizia il gioco? Melia e Arthur. E' diventato più peggio e 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 più peggio. Non ci posso credere. Oh, è viva! È come una razza sopravvissuta. 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 E non è semplice. Credo mi. Quindi potresti... Sporzarlo. Non ero nulla. È... È molto importante per il grande Inquisitor. E... E... Scusa... Mamma mia, che situazione. È come una razza sopravvissuta. Sblocchiamo il trofeo vivo che, come al solito, si è rivelato essere una cutscene. E questo è il capitolo 12. Tutto ciò che rimane. Siamo qui. Ah, ok, sono arrivato qui così. Sì. È solo... È strano di essere tornato. Siamo qui. Ok, ragazzi. Che dire. Già stiamo giocando da quasi due ore, quindi... Stasera la chiudo qua. Domani scopriremo cosa sarà rimasto nella nostra casa d'origine di Amicia e di Hugo. Abbiamo scoperto che la madre potrebbe essere iva. Insomma, tanti colpi di scena, tante belle cose. Comunque, ragazzi, che dire. L'appuntamento è sempre domani sera. Lo riprendiamo sempre alle 22 dal capitolo 12 per scoprire cosa succederà ad Amicia e Hugo. Vi ricordo di lasciare un bel like, di seguire la pagina se ancora l'avete fatto. E notte Zucken e un bacio. Ciao, buonanotte ragazzi. Ciao, buonanotte ragazzi.